andrei ad aggiungere ancora un po di rockwood red qui ok lo lasciamo asciugare direi che sono da ampliare queste due fasce qui e un po la punta del cappuccio questa volta però mi prendo un pennello angolare più piccolino dove è rockwood red e anche in questa parte qua questa volta non bagno perché voglio proprio che si sovrappongano le varie le varie pennellate le varie scie di ombreggiature quindi vado proprio a depositare colore il mop e la punta pian pianino costruisco un po questo effetto cono questo effetto triangolo con delle ombreggiature più leggere che facciano questo effetto un po rotondo al cappuccio adesso lo lascio asciugare mi dedico nuovamente al naso che sarà un'altra passata in calico red e le guance di nuovo in country red ultima passata sarà in traditional burn timber prima di fare il traditional burn timber vado a fare la lumeggiatura bianca al naso la lumeggiatura bianca è sempre fatta a floating e utilizzo il warm white il warm white sarà lo stesso colore con il quale faremo anche tutte le lumeggiature dei guanti e tutti i peli peletti della barba dei capelli in giro per la faccia del nostro gnomo quindi bianco questa volta tengo il pennello molto asciutto lo strizzo ben bene e vado già a prepararmi sulla tavolozza una pennellata ac in maniera che le setole si assorbano già il colore in questa posizione vado a fare la prima lumeggiatura sul naso questa volta devo andare proprio lentamente e vado a picchiettare la sempre con il mop come al solito non sarà l'unica ma la ripeterò più volte perché devo proprio riempire riempire i bordi quindi devo essere abbastanza precisa in quello che è il contorno del naso eventualmente se c'è qualche riga in più la togliamo asciughiamo l'ultima passata sarà con traditional burn timber sulla base del naso in questa zona qui e sugli angoletti delle guancette costruite bene la lumeggiatura in maniera che sia bella compatta deve risultare quasi bianca cioè quasi totalmente bianca se vedete che avete perso un po' di calico red potete comunque ripeterlo se avete sporcato come nel mio caso un po' in giro vado a ripassarlo scaldo un po' anche le guancette perché mi sembrano un po' troppo adesso prendiamo il traditional burn timber asciugo ne prendo proprio pochissimo deve essere... potete anche mescolarlo al calico red se non vi fidate del colore troppo scuro e vado a farlo solo sulla base sotto del naso uso sempre il mop la stessa cosa vado a farla sulle guance sempre con un po' di traditional burn timber magari aggiungo un po' di calico red per scaldare un po' e si creerà questo bel bordo tra la guancia e il naso uso sempre il mop la stessa cosa la faremo sempre con traditional burn timber e il calico red sul cappuccio quindi prima inizio con il calico red adesso ne prendo di nuovo perché siamo un po' scarsini faccio quasi un wash come una lavata ai vari strati di ombreggiatura di rockwood red anche il tuscan red va benissimo per fare questo tipo di wash all'interno del cappuccio il calico red accende molto di più più passate più si rinforzeranno le ombreggiature lasciamo asciugare ripasso leggermente il naso perché l'ho toccato il bianco ok stessa cosa come abbiamo detto prima calico red più traditional brown timber un po' di più questa volta vado un po' contro contro ombra e vado a realizzare se vi piace un pochino più intenso al posto del calico red potete mettere il rockwood red traditional brown timber o addirittura o addirittura traditional brown timber e black plum diventa molto più opaco e un pochino più cupo quindi provate con il calico red che viene bello brillante i passaggi sono sempre gli stessi a floating ad esclusione di quello che sarà la lumeggiatura al centro del cappuccio che sarà fatta a dry brush con il bianco per poter ospitare i vari qua vado a rinforzare un pochino l'angolo qui ci vorrebbe un pochino più una musichetta natalizia e vado a ricreare un po' il bordo del cappuccio ok ora passiamo alle foglie foglie foglie, guanti e fiore le foglie sono ombreggiate in plantation pine tranquillamente con un floating normalissimo e black green se se avete fretta potete ombreggiarle anche con lo stesso step cioè mescolando i colori al loro interno io inizio sempre da da ombreggiare le vasi delle foglie quindi la zona dove le foglie si attaccano fra loro quindi la zona intorno ai petali del fiorellino qui tra una foglia e l'altra quindi la zona intorno ai petali del fiorellino e poi il passaggio successivo sarà quello di fare l'ombreggiatura tra le varie delle varie nervature quindi dove ci sono questi segnetti qui che ore sono? 2.10 quasi bene anche qui un solo passaggio non basta ci sarà bisogno di un successivo passaggio con il black green e poi con il liner realizzare la nervatura intanto passiamo ai guanti così non serve che asciughiamo con il phon sono dei passaggi un po' noiosi e ripetitivi ma è così eccoci qua ok per ombreggiare i guanti Deep Midnight Blue sulla parte più bassa e dove c'è il pollice e Warm White per le lumeggiature trovate già disponibile il cartamodello da scaricare free nel mio sito web basta andare su www.countries.com sulla tab in alto c'è una scritta a fianco al chi sono trovate la scritta scarica e andate sulla pagina di Christmas Gnome trovate là l'articolo dove vi parlo di questo Gnome e sulla parola scarica pdf basta cliccare e parte subito il download per chi invece è un utente utente internazionale posterò domani penso il cartamodello in inglese anche per quanto riguarda i guanti ci vorrà una seconda ombreggiatura intanto vado a fare la prima accidenti ho preso il verde scusate ecco qui asciugiamo un po' perché col bianco è possibile che tocchiamo un po' in giro i guantini poi hanno una cucitura sul loro bordo centrale vado a ripetere vediamo se trovi un pennello un pochino più preciso se vi piace potete fare anche un leggero dry brown si lascia al centro della della manopola qua del guanto però vi consiglio che possono bastare queste queste lumeggiature che andremo a fare asciughiamo e aggiunto la pigna bianco per la lumeggiatura sul pollice sulla parte alta del guanto se necessario la ripetiamo pollice se vedete che il naso come in questo caso ha qualche segno strano vado a ad aggiustarlo un po' visto che ho il bianco poi prendo un pennello da dry brush io utilizzo il fabric round da 8 prendo il colore da pennello asciutto lo scarico parecchio prendo la scottex la scarico tanto sulla carta e vado a iniziare a lumeggiare nella zona più più centrale del cappuccio e nella zona della fascia faccio tanti passaggi tanti strati insisto nelle zone dove voglio vedere un po' più bagliore con lo stesso pennello sempre con il bianco vado a fare anche un dry brush sulla barba per il dry brush bisogna avere un po' di pazienza se vedete che avete un po' sporcato in giro basta andare a prendere un po' di rockwood red e fare un ulteriore wash e vado a ritoccare le zone che ho sbiancato oppure siccome il dry brush è proprio a secco si rischia che la polverina che lascia il pennello vada un po' a contaminare delle zone che devono rimanere scure e quindi la polverina va come ad attaccarsi basta ripassare un po' con un wash sopra come vi dicevo con il dry brush bianco vado a fare un po' di dry brush random se vedete come in questo caso che io ho sporcato il la barba prendo di nuovo il colore di base che è blitz and sand e vado a ripulire con un pennello angolare la zona la zona che ho sporcato vado a ridare la forma alle guance in pratica vado a ripulire un po' quelle zone che ho contaminato un po' con gli altri colori diciamo che sotto al naso non ce ne sarebbe bisogno perché adesso andiamo a lavorare con il warm white però è un po' per ripulire i vari bordi quindi asciugo adesso vado a fare una lumeggiatura con il bianco dove la barba si attacca al viso l'aiuto si è scassato il pennello ok warm white lo do abbastanza abbondante e vado a lumeggiare tutto intorno e vado a rifare un po' quel bordino che ho appena rimarcato col blitz and sand così per pulire e per illuminare sotto alla bocca e sui ciuffi non mi ricordo all'esterno mi pare qui faccio qualche segno anche in verticale che mi servirà un po' da guida dopo quando farò il i vari peletti intanto prendo o uno stilo o il retro di un pennellino e vado a fare i può al al cappuccio utilizzo uno schema triangolare cioè faccio i può sempre a triangolo gli do un'alternanza abbastanza regolare ok asciugo ora con il warm white leggermente diluito acquarellato e un pennello e un pennello liner se andate bene usate un liner corto o un mid liner script liner che è un po' più lungo io di solito tendo a utilizzarli tutti e due allora inizio con quello più corto lo bagno con l'acqua che scende proprio dal pennello preparo questa miscela acquarellosa inchiostrante sciacco il pennello e vado a prendere col pennellino la questa miscela che mi sono creata e inizio a fare i capelli sul sul bordo del cappello sono delle pennellate a virgola cioè e schiaccio e alzo le faccio tutte intorno al naso un po' sparse e anche tipo dei dei ciuffi un po' strani che sembri un po' sbarazzino la stessa cosa sul naso sul naso dovrò andare più leggera con dei peletti più corti se avete il pennello rake potete usare anche quello oppure il kezza furra che è quello per fare gli orsetti a pelo lungo molto comodo anche quello per fare barbe e baffi adesso l'ho diluito un po' troppo con lo stesso bianco vado a fare anche i colpi di luce qualche pelo quella i peletti che fuoriescono da questi ciuffi troppo compatti della barba naturalmente naturalmente devono uscire anche un po' sullo sfondo dovete lavorarli finché siete soddisfatti dei ciuffetti spero che si veda che si senta bene siete ancora lì sì ci siete tutti qualche ciuffettino di di capelli qua e là anche di qua un po' più più spessi stessa cosa sui ciuffetti di qua magari qualche ricciolino dovete stare il più leggero possibile sul finire del ricciolo quindi quando attaccate il pennello è appoggiato proprio mentre quando volete che il capello sia più sottile dovete alzarlo proprio dal vostro dal vostro progetto insomma ecco qui fatene qualcuno in giù qui devono sembrare anche un po' corti e un po' schiacciati dal naso qualcuno intorno alla bocca questi li lavoriamo un pochino di più poi c'era questa questo colpo di luce un facciamo uno anche qua sul nasone le cuciture dei guanti ora andiamo a terminare le foglie c'era il black green da qualche parte il black green sistema sempre è bello da fare anche su uno sfondo nero quindi se se avete magari da regalare potete fare una lavagnetta ad esempio dovrebbe stare benissimo con la lo sfondo nero perché lui è proprio un bagliore di bianco e rosso oppure anche all'interno di un cerchio di una scatola di quello che volete le lumeggiature alle foglie non ci sono le foglie sono una roba che proprio odio odio fare però se vi piace potete ombre lumeggiature con un po' di celeri green misto a un giallo che potrebbe essere un golden straw oppure lo lumeggiature con un po' di blitz and mescolato sempre jade green al blitz and con il liner di prima vado da querellare il black green magari lo mescoliamo un po' anche al al plantation pine e vado a creare le venature delle foglie con lo stesso colore cioè con lo stesso pennello vado un po' a dare la forma alle foglie la cosa importante è essere molto leggeri e che il tratto sia molto sottile quindi vado a creare tutte quelle separazioni tra una foglia e l'altra che altrimenti avrei perso in questo modo da creare tutti gli occhi che ho visto è sempre più 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 se vi piace e se non avete grande dimestichezza con con il liner potete sempre utilizzare una penna grafica nera perché è talmente scuro il black green che potrebbe comunque essere utilizzato un pennarello nero con lo stesso liner vado a creare dei rametti all'interno della della composizione se avete terminato di fare la barba cioè tutti i peli della barba e li avete conclusi andiamo a fare qualche rametto qua e la 10 1 quarto con lo stesso black green e plantation pine mescolati assieme vado a fare qualche rametto di con qualche fogliolina poi con il plantation pine e un pennello piatto numero due quindi piccolino vado a creare delle foglioline delle foglioline un pochino più consistenti aspettate che non lo trovo eccolo qua il pennello piatto numero due bisogna sempre di fargli un po la puntina perché io lo uso sempre tanto e con una pennellata ad ess vado a fare le foglioline quindi andrò a fare qualche fogliolina quella vediamo che se si vede spero che si veda se no fidatevi un po come le fa gemi che sarà tra i nostri teacher infine cordata di uniti per l'arte ci sarà anche lei oltre a maxine thomas e giù di santiavo come insegnanti internazionali vado ad aggiungere qualche fogliolina non ne faccio tantissime perché altrimenti si riempie troppo ok ultimo step prima di fare le bacche vado a ombreggiare le foglie i petali del della nostra stella natalizia primo step sarà in black plum secondo step con lamp black prima ombreggerò i fiori scusate i petali della corolla più grande quindi quella più esterna dove si attaccano agli altri petali quindi vado a fare da base ai petali intorno a quelli più più piccolini che stanno più a rilievo e anche tra un petalo e l'altro quindi che si noti la sovrapposizione dei vari petali se necessario come prima si ripete per intensificare le ombreggiature stessa cosa farò un po di ombreggiatura diciamo contrapposta back to back come dice la mia amica di rigora per il centro della stella lì andrà poi a fare dell'altro intanto il contorno dei della prima corolla si è asciugato o lo asciugiamo per velocizzare e utilizzo il lamp black più un po di plan black plum troppo ok e vado a fare le ombreggiature la lumeggiatura questa volta l'ho fatta con neon fieri red che accenderà molto le punte dei petali ok prendo il fieri red lo scuoto tanto perché il fieri red è sempre un po pastoso poi il mio ha tipo dieci anni quindi si è un po sedimentato prendo lo prendo col pennello quasi asciutto quindi pochissima acqua perché essendo un rosso tende un po a essere trasparente e vado a darlo giusto giusto sulle punte questa volta uso un questa volta uso un mop più piccolino ora vado a fare proprio tutte le punte dei petali ora ne trascuro una parte perché voglio chiudere comunque avete capito i vari passaggi una volta terminato tutti i passaggi anche del della stella qui di natale avrà dei pistilli pistilli in primary yellow quindi semplicemente dei pois qua e là e qualche segno con il bianco sui petali per dare un po di di luce adesso giro la camma prima vi volevo parlare vi volevo dire che nel mio negozio online countries.com slash store2 troverete i supporti che ho utilizzato oggi quindi la slitta che verrà ultimata in questo modo più poi i pattini qui ci metterò una bella scritta la slitta grande la troverete nello store oppure le varie fette le fette di corteccia che sono in tre dimensioni e sono delle cose carine anche da appendere sull'albero o come fuori porta le slit le trovate anche in kit più piccolini in questi kit che sono comprensive anche dei campanelli per essere diciamo appesi ai pattini della della slitta ora io giro la camera per salutarvi perché la mia serata è terminata vediamo un po' grazie 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 eccomi qua e spero che questa serata vi sia piaciuta un po' noiosetta per i vari step da realizzare spero che vi divertiate a dipingere il mio Christmas gnome e grazie a tutti di essere stati qui con me domani mi raccomando con noi ci sarà Laura Petrassi nella sua pagina Creativa Club con il suo bellissimo Snowman mi raccomando seguiteci un bacione a tutti quanti e buona serata ciao